Termina venerdì 1 settembre il periodo di rischio incendi in Toscana. È quindi di nuovo possibile effettuare abbruciamenti di residui vegetali sul territorio, salvo l'istituzione di un nuovo periodo a rischio se dovessero cambiare le condizioni. È importante però seguire prescrizioni precise e adottare tutte le cautele necessarie. La diminuzione delle temperature di questi giorni permette di poter terminare la fase estiva di divieto di abbruciamento, afferma il Presidente Eugenio Gianni, ma invito i cittadini alla massima attenzione al rispetto delle prescrizioni del Regolamento Forestale Toscano e a segnalare con tempestività e scrupolo le situazioni di pericolo. Il Regolamento Forestale Toscano prevede l'assenza di vento come condizione necessaria per procedere ad un abbruciamento. La colonna di fumo deve così salire verticalmente. Per poter eseguire abbruciamenti in un bosco o nelle aree assimilate a bosco è necessario preventivamente essere autorizzati dall'ente competente sul territorio ai sensi di legge. Se invece si opera nei 50 metri di distanza dal bosco e nei castagneti non occorre essere autorizzati ma bisogna comunque osservare le norme di prevenzione che impongono di utilizzare spazi ripuliti dalla vegetazione nei quali limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli. Mai infine operare da soli e osservare continuamente la zona fino al completo spegnimento delle braci. Il Regolamento Forestale Toscano prevede l'assistente